buongiorno buongiorno dal dottore claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola oggi parlaremo ragazzi di tic nervosi rispondo dura signora che mi parla di tic nervosi è possibile dottore le ho provate tutte sono andato a mille personaggi famosi e non famosi ma il mio tic nervoso è rimasto sempre lì cosa possiamo fare per eliminarlo con il suo metodo dcs di los angeles baby reels io gli ho risposto che si può scaricare degli audi mp3 dicesse molto potenti dal titolo no tic nervoso oppure molto controllo dei nervi che trova sul sito dell'associazione ipnosi associati los angeles baby reels a cui ho ceduto tutti i miei diritti e seguire le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un pigro e cambiare la propria vita se tu non lo sai o forse non lo sai non esiste di fatto nessuna soluzione per i tic nervosi tic nervosi all'occhio alla gola il raschiamento quanta gente no e se rifletti succede quando si è stressato in senso lato oppure ad un dito della mano in qualsiasi parte sopra il ciglio e compagnia bella occhiolino famoso questo dipende sempre dal tuo subcosciente dal tuo pilota automatico dal genio della lampada della dino si trova qua dentro se tu non entri qua è tutto a livello naturale non da retta ai quattro scemi quattro quattro scemi nel mondo che parlano di effetti indesiderati perché altrimenti dovremmo proprio isolarci e fare gli eremiti non esiste nessun effetto indesiderato con l'ipnosi di cese vera e professionale è perché le suggestioni di cese sono create ad arte ad hoc hanno quasi un secolo di un antico sapere è perché il metodo stesso elimina qualsiasi tipo di dubbio perché trattasi di parole di cese uniche al mondo create ad arte ad hoc d'accordo sperimentale su di me io sono l'unico caso al mondo che si ipnotizza h24 da più di 12 anni dal 2008 ad oggi che chi ne possa dire qualche curo e anche in questo momento sono ipnotizzato anche se non sembra o sembra per cui perché mi ipnotizzo perché mi sento benissimo cammino sulle acque ho un'energia incredibile d'accordo non credere al sottoscritto che se tu hai qualche audio mp3 di cese segui la lettera e l'istruzione non dare per scontato non dire ah sì vabbè poi dopo domani dopo domani tanto non ti ruba tempo il metodo di cese che te frega continua persevera e poi osservati dati dei voti delle pagelle guardati attorno e nota le meraviglie che il tuo subconscio perché le mie parole fanno solo da guida compie nella tua vita capire se ti dicessi metti gli auricolari ritagliati la mezz'oretta al giorno i 15 minuti al giorno i 5 minuti al giorno perdi tempo impegnati partecipa segui le montagne sali i ruscelli guarda la luce guarda le nuvole capirei ma mantengo un mese due tre perché li dico cioè perché anche sono partito da queste cose poi dopo incrociato la dottoressa lina brunini il professor dottor michel anghel garai miei maestri miei amici miei mentori per l'eternità e la mia vita è cambiata nel 2008 ok è un metodo di cese io sono qui per divulgarlo diffonderlo non mi interessa di chi blatera chi dice ma che dice ma che fa ma che io non vendo nulla sto bene per le prossime 37 vite per cui quello che sto dicendo lo dico perché finché sono vivo finché sono su questa terra voglio trasmettere le mie esperienze a te e alla gente di buona volontà poi ai posteri l'ardo a sentenza fammi tutte le domande del caso se è un tic nervoso lo puoi eliminare con l'ipnosi di csa vera e professionale se hai dubbi incertezze perplessità manda un'email ai proraggi associati con giallibro.it ti risponderanno gratis compatibilmente a tempi e gli impegni visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di csa del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sui altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di csa del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao ciao